Un saluto da Lucio Di Mauro, ben trovati ancora una volta su questa emittente Sicilia 242, la prima tv in Sicilia a copertura nazionale, in chiaro. Parte Mediarte, un'altra bella puntata, tanti ospiti come sempre e l'argomento di oggi, la cosa mi affascina, mi piace perché si parlerà di cinema, si parlerà di cinema nel senso lato anche perché in questo periodo ci sono tanti festival che pullono nella nostra amata isola per fortuna e uno di questi ovviamente ne parleremo in questa puntata, ma prima di presentarvi i miei ospiti partiamo con la sigla. Benissimo, ritorniamo in studio, dicevo si parla di cinema, il cinema ovviamente, il set cinematografico naturale è la Sicilia, non a caso molti produttori, attori, registi scelgono la nostra isola per girare i propri film che poi sono diventati quasi tutti grande successo anche a beneficio del nostro territorio. Si parla di cinema e vi presento subito il primo ospite che abbiamo un collegamento che dopo vi presenterò è Fabio Sacuzzo, dottore commercialista. Ciao Fabio. Ciao Lucio, grazie, grazie per l'invito. Io oggi parleremo di cinema, ma parleremo anche di qualcosa che inerisce la mia attività professionale, io sono dottore commercialista, ho voluto unire due mondi, il mondo delle imprese col mondo del cinema, ho creato un panel, un evento dal titolo Cinema in Trese. Il 28 giugno è la settima edizione, in realtà sono reduce della sesta edizione a Palma di Mallorca, insieme all'amica, nonché ormai partner professionale, Gabriella Carlucci, lei è presidente dell'Estimar, festival del cinema italo-spagnolo. Abbiamo presentato anche lì Cinema Imprese, il panel di cui accennavo e abbiamo incontrato in quel caso, in quell'occasione, le imprese, le produzioni cinematografiche spagnole. In quell'occasione abbiamo parlato in particolare dell'intervento dell'Europa nelle produzioni cinematografiche da un punto di vista finanziario, collegandoci anche a quello che l'Italia offre da un punto di vista di supporto, di sostegno alle produzioni cinematografiche, perché come si sa, gli addetti al settore sanno, esiste una convenzione bilaterale che lega l'Italia con il Regno di Spagna, in virtù della quale, e grazie ad un legame con la nostra regicima 220 del 2016, è possibile adottare, replicare le normative a sostegno del cinema italiano anche per le produzioni collegate con la Spagna. Bene, parliamo di questa kermesse che è sicuramente autorevole, con ospiti illustri che ci saranno in questo panel che ci sarà a Capodorlando, ognuno porterà una propria esperienza nel settore, quindi una propria esperienza anche nel senso largo della veduta, eccetera, e poi essendo anche un settore di nicchia, sarà, secondo me, un'occasione per professionisti, per colore che amano il cinema, quindi entreranno nel merito. L'evento del 28 a Capodorlando sarà una grande manifestazione di cinema imprese, perché verranno coinvolti tanti operatori del settore, si andrà a ricoprire, diciamo, la filiera cinematografica, la produzione, la distribuzione, la parte attoriale, la situazione che supporta e tutela gli attori, noi mai, ha dato il padrocino per questa edizione, oltre che tanti esperti, tecnici e professionisti del settore, ci sarò io che mi occupo di cinema dal lato finanziario e dal lato fiscale, ci sarà l'avvocato Gianfranco Passalacqua, uno dei maggiori esperti nazionali di diritto cinematografico, ci saranno esperti bandi ministeriali e bandi europei. Sì, allora parliamo di questo panel che ci sarà a Capodorlando, molti ospiti, parlavamo prima, tu qualcuno l'hai già elencato, eccetera, ma sono ospiti sicuramente illustri, perché il premio abbraccia diversi argomenti, ma come nasce questa passione, che tu sei dottore commissionista adesso col cinema, unisci le due belle cose, ma come nasce? La mia passione per il cinema nasce quasi per caso, sono stato coinvolto da amici in questo settore, già appartenente al settore cinematografico e segui la produzione cinematografica dell'attrice Francesca Rettondini, con la quale abbiamo vissuto determinate esperienze in questo settore e da lì anche l'idea del premio cinematografico, perché con lei abbiamo vissuto anche l'esperienza del premio cinematografico a Venezia del suo premio e da lì ho replicato l'idea e poi traghettata in Sicilia. Questo è il motivo per cui io inizio con il cinema, il cinema in questo settore ha bisogno di persone, di professionisti esperti come noi che possono dare un sostegno a ciò che di artistico non c'è. Bene, a questo punto facciamo partire lo spot, il video che ci racconta un attimo quello che succederà nei prossimi settimane, oltre il 28 poi avremo sicuramente a fine luglio in quel del teatro greco di Tindere un grande evento, ma partiamo con lo spot e poi ritorniamo in studio con Fabio. Ritorna il premio Atena Niche, nello splendido scenario del teatro greco di Tindere, anche quest'anno si celebra la vittoria dell'arte, in linea con l'espressione simbolica dell'Atena Niche, la dea lata della vittoria, icona di un momento in cui arte, cultura e bellezza si mescolano per dare un riconoscimento a chi contribuisce a fare del nostro cinema un modello ed esempio nel mondo. Di fronte ad una platea importante, forti del successo delle passate edizioni, con il supporto e la direzione artistica di Gabriella Carlucci, il premio ambisce a diventare ancora di più un punto di riferimento per artisti e professionisti del settore. Abbiamo visto lo spot che parlava delle passate edizioni, ma comunque grandi ospiti, allora concentriamoci sul premio Atena Niche, cos'è? Il premio Atena Niche appunto come dicevo nasce dalla sicuramente mia passione che è nata quasi per caso per il cinema, ho voluto coniugare l'aspetto professionale con il panel del cinema delle imprese e promuovere l'arte intesa in quanto tale, settima arte del cinema, creando questo premio cinematografico, devo dire che da subito è partito in grande stile, ho l'onore e l'orgoglio di dire e affermare questa cosa. Il premio è partito in occasione del festival di Taormina e ha da subito contemplato grandi artisti, artisti tra gli emergenti perché l'incipit del premio Atena Niche è quello di, sulla scia di quello che dice la dea della vittoria Atena Niche, è quello di premiare la vittoria di artisti emergenti e allora quello è stato il mood per così dire principale su cui si è incentrato la premiazione, l'Academy, la nostra Academy, Vera Academy che ha lavorato per la scelta, la selezione dei film e poi dei vincitori. Bene, io prego Andrea Crimi che dietro il vetro che sta curando la regia come le altre volte, di far scorrere un po' le foto così magari le possiamo un attimo ricordare e documentare assieme a Fabio alcune foto. Ecco, qui siamo, Lucia Sardo, Lucia Sardo insieme ad Antonella Salvucci, questa è l'edizione di l'anno scorso a Taormina. Eravamo a Taormina. E Gabriella Carlucci, quest'anno la nostra direttrice artistica, ancora Gabriella. Gabriella, comunque ha fatto cambiare. Ah, qua abbiamo Donatella Finocchiaro. Donatella Finocchiaro, la nostra madrina della passata edizione. Qui tutto lo staff, mi pare, no? Qui no, qui ci sono dei premiati, tra staff e premiati. C'è Salvo D'Angelo, c'è Gian Pietro Preziosa, c'è Marco Simon Puccione, ci sono i ragazzi di Strenizi da Muri. Ah, sì, sì, sì. I due ragazzi di Strenizi da Muri, diciamo, Serena e Caramazza, ancora Donatella Finocchiaro. Lei, la mitica, la nostra cara Antonella Salvucci. Ci sarà quest'anno anche lei? Quest'anno ci sarà. E questa è proprio la locandina. La nostra locandina dell'evento del 22. Villa Piccolo di Calanovella. Villa Piccolo di Calanovella merita un'attenzione particolare, soffermarci su Villa Piccolo. Villa Piccolo è la nostra location, per quale miglior location potevamo trovare. È una location intressa di storia, di cultura, di mistero. Villa Piccolo, Tommasi di Lampedusa, scrisse delle pagine del Gattopardo. Quindi si fermò lì per qualche giorno, ospite di Piccolo, di uno della famiglia Piccolo, e scrisse queste pagine del Gattopardo. Pagine, insomma, storiche. Storiche, ovviamente. Bene, e a questo punto, dato che parliamo del premio Atena-Niche, abbiamo un collegamento, se è possibile averlo, un collegamento con un nostro amico, poi una persona molto vicina a noi. Il collegamento è con Salvo D'Angelo, parleremo di alcune novità che quest'anno riguardano il premio Atena-Niche, e Salvo che il nostro coordinatore artistico ce le anticiperà. Allora, Salvo, intanto ben trovato, grazie della tua disponibilità, parliamo di queste novità. Che novità ci sono? La cosa più importante è che daremo un premio chiamato distribuzione, cioè daremo la possibilità a un film senza distribuzione di essere visto, distribuito nel cinema in tutta Italia. A proposito della distribuzione, una breve digressione. Il ministro San Giuliano, in una recente intervista che ha fatto al Sole 24 Ore, ha dato dei numeri e delle statistiche sui film usciti nel 22 e nel 23. Su 460 film finanziati dalla MIC, 360 sono rimasti nel cassetto, senza distribuzione. E' quello che stiamo dicendo. Ed è un numero particolarissimo, in negativo. In negativo, certo, esagerato proprio da questa. Quindi la distribuzione. Quindi, Salvo, cosa ci può dire altro? Non posso dirvi ancora chi sono i selezionati dei cortometraggi e dei lungometradi. Questo lo saprete il giorno 28 dal partner in Cinema Imprese. Va bene, Salvo. Allora, noi comunque ci sentiremo e ci vedremo sicuramente il 28, poi ne parleremo con più attenzione, perché poi sicuramente ci saranno le notizie ultime. Le notizie dell'ultima ora, esattamente, che riguarderanno quello che stava anticipando Salvo, che non è possibile spoilerare i vincitori e i selezionati delle cinquine, perché verranno poi dati durante la serata del 28. Senti, di Gabella Carlucci, parliamo un attimo. Certo, il suo apporto come direzione artistica è stato importante. Quanto? Gabella Carlucci è una donna ipercinetica, io la definisco. è una persona che si impegna da tutto se stessa, io vedo, per il cinema. Organizza diverse chermesse cinematografiche in Italia e in Europa. Io ho presentato anche il cinema impresa a Belgrada, al suo festival del cinema italo-serbo, a Palma di Mallorca, qualcuno di seminari in Italia da Marettimo, è direttrice artistica del nostro premio. e devo dire che ha traslato l'impegno che metteva in politica, la ricordiamo come parlamentare, nelle due legislature dell'anno interessata, l'ha trasmesso completamente nel cinema. E devo dire che lo fa con grande attenzione, fa incontrare tante figure del mondo cinematografico con altissimo livello di professionalità. Con Milly non ci sarà un'incursione di Milly. Sarebbe bello, si parlava con Gabella Carlucci, di poter invitare dei ballerini ballando con le stelle, nell'ipotesi in cui avremmo opzionato qualcuno per presentare la serata. Poi non si è portato avanti questo discorso, ma era una cosa interessante. Bello, simpatica, va benissimo. Allora diamo appuntamento, diamo gli appuntamenti, quelle che sappiamo ovviamente, le date certe. Gli dati certe sono il 28 di giugno a Capodorlando, Villa Piccolo di Calanovella, per presentare la nostra settimana edizione di Cinema Imprese, e il 3 e il 4 a Villa Pisani, a Patti Marina, per la proiezione e la premiazione dei cortometraggi, il 5 di agosto al Teatro Greco di Tindari, per la premiazione finale del premio Atena Niche. Grande serata, ovviamente. Grande serata, in un grandissimo scenario del Teatro Greco di Tindari, che io, devo dire, non conoscevo personalmente, ma è qualcosa di mistico, rispetto, devo dire, agli altri bellissimi teatri che ho visto in Sicilia. Quello di Tindari, diciamo, nasconde, racchiude una magia che gli altri non hanno. Assolutamente, sono d'accordo con te, perché è un teatro dove viene scelto anche come teatro, a livello di spettacolo, eccetera, dai grossi artisti. Ci puoi annunciare qualche presenza importante? Allora, le presenze, noi possiamo dire che, diciamo, non posso spoilerare i nostri vincitori, che per i premi speciali già ci sono, però non li posso menzionare. Posso dire, invece, che la serata verrà condotta da Dario Bandiera, dal brevissimo Dario Bandiera, è simpaticissimo, è da Antonella Salvucci, e la serata dei cortometraggi da la bella Alessia Fabiani. Ok, quindi già c'è un bel presupposto, c'è una bella presenza, bella in tutti i sensi, ovviamente. Assolutamente. Bene, io ti ringrazio Fabio, grazie per quello che stai facendo, continui a fare per il cinema in Sicilia, ma non solo, perché tu spazi, giri un po' tutta l'Europa, e quindi mi fa piacere quando si porta avanti il nostro cinema, il tuo cinema. Vorrei ringraziare anche Salvo D'Angelo, che abbiamo fatto questo collegamento con lui, ma lo rivedremo sicuramente dal 28 in poi, e poi a fine luglio, prima di agosto, grande serata al Teatro Greco di Tindari. Bene, ah, ecco, Salvo, ti stiamo salutando. Ciao Salvo, eccola qua. Ciao, grazie a voi. A presto. Ecco, intanto grazie anche a Salvo per la sua disponibilità. Bene, io vi ringrazio personalmente, un saluto da Lucio Di Mauro, un saluto da questa emittente, Sicilia 242, ripeto, la prima TV in Sicilia a copertura nazionale, in chiaro, cercateci, canale 242. Noi ci vediamo in una delle prossime puntate di Mediarte, e io dico sempre, se ci riuscite, provate a prenderci. 주세요. A presto. Grazie a tutti.